Ciao a tutti, io sono Superbooz e questa è la seconda missione della campagna dei non morti di Warcraft 3, Reign of Chaos. Allora, come forse avete potuto sentire, sono un po' raffreddato, quindi c'è un po' questo suono nasale, spero non vi dia troppo fastidio. E comunque cominciamo subito. E quindi, capitolo 2, riesumare i morti, il mattino seguente nei pressi di Andorral. Avevamo già visitato Andorral, se non sbagliare la città dove ci eravamo dovuti difendere, forse sì, non mi ricordo sinceramente, perché ho fatto quello lì, sì Andorral forse era la città dove ci eravamo dovuti difendere. Sala Tolman ovviamente era la città che abbiamo distrutto, comunque siamo tornati negli stessi posti della campagna degli umani, vediamo ora cosa succede. Che diavolo è? Questo semplice attrezzo ti permetterà di trasportare i resti del nostro maestro. Non potreste semplicemente risuscitarlo quando avremmo trovato i resti? Perdono mio signore, ma un essere potente come Kel'Thuzad può essere rianimato solo in un Nexus generato da potenti energie. Qui intorno non ce ne sono. Va bene, sbrighiamoci. Un Nexus. Dobbiamo sconfiggere dei Protoss? Eh no, forse no. Ok, allora. Uccidi il paladino al guardio del cimiteo, guida Arthas alla tomba di Kel'Thuzad, Arthas deve sopravvivere. Nuova unità acquisita, carro dei morti. Ok, queste sono le unità di assedio che avevamo incontrato anche nella campagna umana. Ovviamente ce l'avevamo contro, adesso invece sono i nostri amici. Possono trasportare i morti, come ho detto. Raccogliere i cadaveri. E quindi... No, buono, questo qui... Che problemi ci abbiamo? Ecco, ovviamente. A danno da assedio, quindi fa più danni a questo tipo di... Alle strutture. Ah, l'attacco. Boom. Donna come splatano. Come no? Ah. Vabbè. Ma perché non le fa mangiare? Non ci sono cadaveri utilizzabili. Sembra... Un pochino bugged. Un pochino buggata? Non lo saprei. Vabbè, ah no, ok, non ci sono più cadaveri perché lo stavo usando l'altro tizio. Ferma questa follia prima che sia troppo tardi. Eh, game... Univar the dire. Oh fuck. Sono qui per prelevare alcune vecchie ossa e non desidero essere disturbato. Senti, attacchiamo questo, va? Mi sta in frega della fattoria. Ok, e ora l'altro. Ecco, ovviamente ci hanno un range superiore a quello delle torri, come anche i mortai per gli umani. E quindi possiamo distruggere queste fortificazioni senza molti problemi. Mmm, Frostmour a fare. Ok, andiamo a distruggere... Campioni della pace. Lì abbiamo incontrato il primo paladino. Oh, fuck. Fuck. Ok, meglio... Non so bene se fanno danno a splash, se possono colpire le mie unità, comunque... No! Sembra che facciano danno anche le mie unità, eh, non ne sono sicuro. Mi so, forse era l'altra torretta che faceva danno. Vabbè, recuperiamo i cadaveri. Che poi li libereremo per dar da mangiare ai nostri gong. Lasciali tutti, va? Tanto voi mangiate. Così vi ho fatto vedere anche come funziona questa feature dei carri dei morti. Oh, ok. Gavinar the Dyer. Oh, shit. Ehm, andiamo. Non riesco a credere di averti mai chiamato fratello. Sapevo che sarebbe stato un errore accettare nel nostro ordine un principe viziato. Ti sei preso gioco del Silverhand. Silverhand ovviamente è... Oh, fuck. Nessuno può darmi ordine. Sono... Martelfatto, Silverhand, no? Cosa del genere. Ehm, usiamo questa porza. Ok, siamo riusciti a ucciderla. Pergamina di guarigione. A me. Ok. Voi invece potete recuperare tutti i cadaveri che volete. Diamo gliela in automatico questa opzione, no? Ecco, magari... Ah, perché sta mangiando, già. Distruggiamo la caserma. Tanto fa esperienza al nostro piccolo Arthas. Forse non c'è bisogno di distruggere questa. Vabbè, distruggiamola allo stesso. Quindi andiamo avanti. E... Keltuzad. Vediamo Keltuzad. Vieni avanti, negromante. I poteri che servivi hanno nuovamente bisogno di te. Ti avevo detto che la mia morte non avrebbe cambiato molto. Ma che... Sento la voce degli spettri. Sono io, Keltuzad. Non mi sbagliavo su di te, Principer. Te la sei presa comoda. Questi resti sono troppo decomposti. Non sopporterebbero il viaggio verso quel Talas. Quel Talas? Sì. Sì. Solo l'energia del Pozzo Solare Elfico può far risuscitare Keltuzad. E cosa devo fare? Devi rubare un'urna speciale custodita dai paladini. Sistema i resti del negromante al suo interno per proteggerli durante il viaggio. Come desideri. Ok. E quindi adesso siamo... Dovremmo costruire un nuovo villaggio. E ecco qui, miniera d'oro. La miniera d'oro va maledetta. Cioè perché questo che è tipo il centro città però... E' una miniera d'oro prima che gli accoliti possano cominciare a estrarre il prezioso minerale. Ok, grazie. Lo stavo dicendo io comunque. La mia vita per merda. E facciamo anche una cripta. No, giusto perché non possiamo impiazzare niente fin quando il terreno non è maledetto. Il terreno è maledetto quando una struttura dei non morti viene evocata. Gli edifici possono essere evocati solo all'interno dell'area maledetta, tranne nel caso della necropoli. E della miniera maledetta. Ah ah, ne scopi dite? E come vedete, come abbiamo già visto nell'altra campagna, gli accoliti non hanno bisogno di rimanere sulla struttura per costruirla. Questo vuol dire che non può essere velocizzata, come nel caso degli umani che velocizzano le strutture. Però anche che, cioè basta che vai lì, piazzi e te ne vai. Quindi, comoda. Per quanto riguarda i miei morti, ci sono sempre solo cinque accoliti per raccogliere l'oro. Anche perché non sono loro a raccogliere il legno. Come vedete, non possono. E invece sono i gold. Sono i gold a raccogliere l'oro e la legna. Ecco qui. E una bella zigur, anzi un paio di zigurat. Che sono... Quando si trovano all'interno della maledizione, le unità non morte si rigenerano più velocemente. Cioè, sono tali uguali agli zerg, diciamo. Invece come struttura sociale sono un pochino più simili ai protos. Non so. Me li ricordano molti, diciamo. Zerg e protos, mi sembrano... Cioè, zerg e protos. Non morti e protos hanno qualcosa in comune. Non so bene cosa. Dove devo versare il mio sangue? Anche se sotto alcuni aspetti mi piace paragonare protos e orchi. Hanno tutti e due... Uno loro linguaggio, parlano... Cioè, anche gli elchi alla fine hanno un loro linguaggio. Però non so. Sono molti... Sì, beh, anche gli elchi effettivamente sono più simili ai protos. Non so, mi danno questa idea comunque gli orchi. Cosa desideri, padrone? Evocazione completa. Quindi una bella... Ok. Il mio destino è il decimino. Ovviamente possono essere potenziati in torre dello spirito. E ciò vuol dire che... Possono difendere. L'esercito di non morti verrà rifornito di cadaveri. Aha, nice. Lo costruiamo subito. Posso evocare, padrone. Il mio destino è deciso. Si può? Sarà fatto. Ok, grazie. Sì, padrone. Quindi intorno a questo cimitero spawneranno cadaveri. Intanto noi raccogliamo legni in abbondanza. Direi che... Vabbè, possiamo tenerli lì, possiamo accumulare legni e basta. Mentre iniziamo a partire... Quindi la prima cosa ovviamente è costruire... Stabiliare una base. Quindi stiamo facendo anche la cripta. E il cimitero. C'erano tutte due da fare? Minerala, non c'era da fare il cimitero, però è utile. Ah no, ecco qui. Cimitero. E dopo dobbiamo andare a uccidere i paladini e recuperare l'urna. Cos'altro c'è di utile qui? L'altare delle tempeste. Trasformiamo questa, va. Ecco, qui come qualcuno mi ha detto... Se non nei commenti, mi ha detto direttamente... Mettiamo il punto di raduno direttamente su Arthas. Cimitero in costruzione, intanto anche la sala dei morti. La necropoli alla sala dei morti, ma la risposto anche a difendere. Questo hanno bisogno del cimitero per diventare torri dello spirito. Cosa? Vabbè, vabbè anche due. Vai. E... Possiamo costruire anche questo dopo. I potenziamenti vanno fatti nel cimitero. Ecco qui che arriva. E aumentiamo subito i danni dei nostri goal. Cosa desideri, padrone? E... Facciamo... Ok, quando questo è finito possiamo fare... Questa struttura qui. Che può evocare gli abomini. Che abbiamo visto nella campagna degli umani. E i... Carri dei morti. Ecco, tipo... Ehm... No. Dov'avete da me? Finalmente. No. Questo è che è rimasto avanti. E cosa c'è ora? Non ho davvero ben chiaro se... Queste unità colpiscano... Sì, sì, decisamente. Ehm... Evitiamo. Ok, adesso ho visto che... I carri qui dei morti... Ehm... Totalmente... Fanno danno d'aria. Quindi può essere utile la cosa. Ma può essere anche una cosa molto stupida. Eh... Dipende dai punti di vista. Perché se colpisco le mie unità... Non è un gran che... Cioè, almeno così mi han detto. Di solito... Bisogna evitare di colpire le proprie unità. E andiamo... Un po' davanti. Andiamo a scoprire cosa ci attende in questa super missione. Oh. Un sacco di abitanti. Non scappi? Allora ti uccido. Ah, adesso si scappa. Oddio. Cosa ha fatta? Ah, Dea. Vabbè, sono più schiappe di me. Ehm... Voi... No, no, no. No, no, no. Come cacchio faccio a dirgli non attaccare? Mi posso mantenerle sempre in movimento. No, sta indietro. Vabbè, spaviamo gold. Poi ci rimane da fare. Andiamo a recuperare un po' di cadaveri qui. E qui facciamo una bella... Una bella... Un bel mattatoio, eccolo. E un'altra zigorat. Sempre qui davanti, così possiamo potenziarle volendo per poterci difendere, in caso ce ne sia bisogno. Ok. Quindi... Prodato con questi... Con i gold che hanno pochissima vita... Non mi sembra la cosa più intelligente. Ehm... Sparare con le... Con i carri dei morti. Ok, quindi andiamo... All'attacca. Ok, forse è meglio buttare dentro un po' più di danni. Ok, questo... Molto utile questa skill, dopo ne riparliamo. Ehm... Ehm... Sembrano in vantaggio, eh? Ehm... Ehm... Questo qui possiamo evitare. Continuiamo a spammare i gold. Ehm... Questo... Allora, questo qui... Praticamente... Ehm... Prende tutta la vita da un... Da un'unità. Ehm... Ecco, questo scudo mi ha rotto un po' le palle. Prende tutta la vita da un'unità e la... Da... Arthas. Vabbè, stiamo qui tanto. Ehm... Piuttosto... Oddio, mi sono dimenticato di portare... Dove devo versare il mio sacco? No, 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 di questi. Mi mettiamo anche un'altra... Sigurette. Tanto abbiamo soltanto da spammare... Finalmente. Altre pozioni. Ehm... Cominciamo a... Ok. Non abbiamo più mana. Stracciamo direttamente queste strutture, per favore. Sì, tanto non prendono molti danni. Oh. Ok, fine. Ok, il primo è andato, mi pare. Aha. Vabbè. Ehm... Qui possiamo distruggere anche tutto quello che rimane. Altri due palad... Ok, abbiamo ucciso il primo paladino. Ehm... Adesso abbiamo un bel riformimento di goal. I goal hanno un costo molto basso. Fatti sono inità anche che muoiono in continuazione. Come abbiamo visto finora. Ehm... Quindi... Molto da spam. Un po' alla zerg, ecco. Anche questo aspetto è molto zerg. Ehm... Ok, queste sono le unità che ci mandano all'attacco, ma noi ovviamente possiamo sconfiggerle mentre andiamo verso di loro. Ehm... Possiamo evocare altri goal, visto che sono morti. Cerco di stare sotto i 40 per ora, comunque non accomodo un po' d'oro. Ehm... Per ripararle... Mi sembra che loro lo possano fare. Ecco, restauro possono farlo. Ehm... Un altro goal che siamo sotto i 40. No. Il carro dei morti non lo voglio. Ehm... E questi si rientrano in casa. C'è un ponte distrutto. Ah, sì. Ehm... Questa era la missione... In cui abbiamo ucciso Kel'Thuzad, ovviamente. Ehm... Se vi ricordate c'era questo ponte, noi avevamo la base tipo in questa zona qui. Ehm... Cosa c'è ora? Ehm... E avevamo contro i non morti per la prima missione. Sì. Sì, sì bene. Ah. E cosa c'è ora adesso? Rimettiamoci a spammare un'unità. Tanto qui ne sono morti un macello. Guanti rapidità, più attack speed. Ehm... Abbiamo perso più o meno tutto. No, such a problem. Puoi mangiare. Voi mangiate, va? Mentre io distruggo tutto con i carri d'assedio. Ma andiamo ad un altro carri d'assedio. Ehm... Su Artas. Quindi non è un gran problema, prendono sempre pochi danni. Ehm... E cosa c'è ora? No. Vai. Cerchiamo di non... Vabbè, qui... Oh, basso costo. Fermi un attimo. Ok. Sono arrivando. Devinità. Ehm... Ehm... Cosa c'è ora? Forse dovremmo... Il momento giusto per... Aumentare il nostro upkeep. Il nostro cibo utilizzato. Anche perché... L'ultimo mi sembra che ci siano un bel po' di unità. Quindi è dentro! E anche qualche zigorati in più, va? La mia vita per nerd serve più oro. Ma che cacchio. Desidero solo servirti. Cammino in punta. Ok. Anche lui. Ok. Abbiamo ucciso due paladini. L'ultimo... Ah, non ho visto come si chiamava il secondo. Andiamo a vederlo. Sul diario. Se si vede. No, qui ci sono soltanto consigli e missioni. Mi pare. Ah, eccolo qui. Sage... Truthbearer. Sage Truthbearer. Che la luce abbia vita di te, il tuo tradimento ha spezzato il cuore di Uther. Avrebbe dato la vita per te. E questa la ricompensa per la tua lealtà. Sì, esattamente. È stata così leale con me che ho deciso di ucciderlo. Cosa desideri? Struisci altre zigorate. Non ci sono dimenticato ancora. Sì, padrone. Quello. Un altro zigorate. Avete visto? Cioè, abbiamo preso talmente tanto legno in pochi secondi con quei... Con i goal che... Non ne abbiamo più bisogno. Ok. Possiamo andare. Oh. Oh oh. Tu padre ha governato questa terra per 70 anni e tu l'hai ridotta in cenere in pochi giorni. Hai visto che bravo? Davvero teatrale, Uther. Dammi l'urna e ti prometto una morte rapida. L'urna contiene le ceneri di tuo padre, Arthas. Puoi sputarci sopra un'ultima volta prima di mandare in rovina il suo regno? Sì. Non ne conoscevo il contenuto. Ma non fa alcuna differenza. Prenderò ciò per cui sono venuto, in un modo o nell'altro. Ok. Ehm. Oh, direi di tenerli anche qui, tanto. Chi se ne frega. Ah, dai, vabbè, andiamo al macello. Più goal. Fate tutti i band che volete. Chi se ne frega dei goal. Ma che cacchio? Pensavo fosse morto, vabbè. Voi andate a mangiare. Evocazione completata, idiota. Ehm. Più goal. Oh. Ehm. Ehm. Eh, livello 10. Questa era inaspettata, diciamo. Non ci ho pensato che faceva un macello di danni, questo. Oddio. Oddio, questo si è incastrato, oppure? No. È un po' inaspettata questa. Non ci avevo pensato che... Obedisco completare. ...rò così grosso, perché... Non so. Soprattutto sono più equilibrati i match-up, no, tra eroi. Però questo è... Era un match-up bastardo. Ok, intanto abbiamo il cadogari. Mangiate. Qui ci mettiamo tantissimo. Quindi... Non so. Sarà una parte noiosa? Magari la taglio? Eh. Quanti cadavri, guarda. Ah, c'è anche un abitante. Quelli che cacchio fanno avanti e indietro di casa? Ma cosa fa? Adesso lo prendo. Mi facciamo così? Evocazione completata. Morto. E quindi con questo qui possiamo anche distruggere gli alperi. Guardate che roba. Ah, evocazione completata. Intanto... Ah, orta. Ah. Eh. Ma andiamo una marea di gold. Ma ne sono davvero accorto che stava... Mi stavo uccidendo Arthas. No, avrei sacrificato qualche gold. Devo starci più attento. Prima volta che mi muore... L'eroe in tutto questo... In tutto... No, forse no. Un'altra l'ho già capitato? Ah, non mi ricordo. Mi pare di sì, perché ho fatto vedere, mi pare. Come si faceva a risuscitare l'eroe. Però non ne ho la certezza. Comunque... Se non è la prima o la seconda volta. Intanto facciamo... Le torri dello spirito così tanto per for fun. Basta, prego. Abbiamo un milione di gold. Eh, è lunghissimo. Sono tipo... Uno o due minuti. Questo intanto continua a raccogliere oro. Da, 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 da... Più o meno la velocità dovrebbe essere più o meno uguale a quella... A quella delle altre razze, però... Più figo così. Facciamo torri dello spirito. Eh, guardate che carina. Fa danno. Anche questa fa danno. Dove devo versare il mio sangue? Io entro le strutture dei... Potenziamento completato. Cosa desideri, padrone? La mia vita per Nerzul. Vediamo se lo fa. Dove devo versare il mio sangue? È giunta l'ora del flagello. La morte ripulirà il mondo. Vedo tutto nero. Mi è calata la picchiera. È un fiume di sangue trascini con sei più deboli. La mia vita per Ayur. Potenziamento completato. L'avete sentito? Spero di sì. Ha detto... Praticamente se non l'avete sentito ha detto La mia vita per Ayur. Che sarebbe tipo il motto degli zeloti in Starcraft. Ed è un piccolo easter egg, sì. La... La Blizzard è abbastanza famosa per tutti questi easter egg che mette nei giochi. Molto... Jokes. Nei suoi giochi ci sono sempre molti easter egg. Bene. Però 45 secondi se non sbaglio questa roba. Il mana? Ah, infinito ce l'hai, capisco. Cioè, ma che cacchio dovrei fare? Fin quando questo scudo non finisce io non posso attaccarlo. Guarda... Attacca, attacca, attacca! Attacca, attacca, attacca! La torre la diverrò a legittaria! Ah, finalmente! Prostum. Finalmente! No! Via, 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 via! Finalmente! Ok, ho usato un po' di mana. Ah, quanto mana che ha! E cosa c'è ora? Non finisce mai. E abbiamo tolto metà vita. E cosa c'è ora? C'è ancora un sacco di mana. Che sgravità che è. Ah, l'attacco, l'attacco! Prendiamo una forza. Mettiamoci anche questi, va. In un tempo. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo! No! No! Via, 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 via! Ma... Ma che cacchio mi significa? Prima... No! Mi ha fregato! Mi ha fregato! Mi ha fregato, bastardo! I cadaveri che avevo lasciato lì per recuperare vita! Vai! Uccidetelo! Dov'è? 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 Eh, bam! Spero proprio ci sia un posto riservato per te all'inferno! Non c'è di sicuro! Forse non lo scopriremo mai, Uther! Io voglio vivere per sempre! Woo! Fucking Uther! Quanto vuoi, dopo questa missione! Immortale era! Ottimo lavoro! Ora può avere inizio il tuo viaggio verso quel talas! Non dici nulla! Solo tu puoi udirmi! I signori della terra ebre non sono abitanti! Come i ballonetti del re dei lisci! Vi dirò tutto! Quando sarò di nuovo in questo mondo! Quindi c'è qualcosa di nascosto anche qui! E allora! Questa missionerata più di quanto mi aspettassi però non dovrebbe essere durata troppo! Quindi andiamo a vedere! Una cosa che non vi avevo mai fatto vedere credo! Questa schermata qui! Che è 30 minuti! Ok! Forse farò un taglio! Forse avrò fatto un taglio! Perché è un po' lunga così! Soprattutto con introduzione a questa parte qui! Comunque! Questa parte qui fa vedere tutte le unità create! Uccise! Eroi! F10! Non fa vedere gli altri eroi strano! Gli altri paladini che c'erano! Anche se erano eroi alla fine! Punteggi unità! Punteggi eroi! Soprattutto in multiplayer! Questa è una cosa carina! Niente di che! È un resoconto di battaglia un po'! Così! Ho estratto le mie accumulazioni! Cioè! Io mi chiedo come faccio a non accumulare 10.000 di oro preciso! Anche perché non ho visto tante miniere! Ma fa niente! Loro le unità ce le hanno gratis! E quindi! Anche per questa missione è tutto! Io vi saluto! Ci vediamo alla prossima! Ciao!